Siamo all'assurdo però parlare a persone a cui sono stati rubati di fatto i soldi e dire beh ti ridanno l'ottanta per cento in fondo dai ti è andata bene dovresti essere felice. No ma non è accettabile perché qui ci sono degli errori fatti da delle persone, sono errori avvallati in un primo momento comunque anche da una parte di politica che li chiamava speculatori che avevano investito, sapevano benissimo tutti i soldi, sembravano chissà quali criminali perché ce lo ricordiamo. I primi mesi parlavamo di tutti loro come se se la fossero cercata, sapevano benissimo anche il signore di 90 anni che firmava magari per tenerle bloccate per 10 anni sembrava sapesse benissimo cosa stava facendo e qua bisogna andare a trovare i responsabili e punirli veramente ma per me la punizione dovrebbe essere molto di più che mandarli via perché qua si parla di vite di persone, persone che la vita se la sono tolto, persone che sono in ginocchio per quello che è successo e devono essere qua dopo un anno ancora a supplicare che la politica intervenga in qualche modo per andare incontro a un'ingiustizia che hanno avuto. Noi non possiamo pensare di essere qua a dirci ora vediamo oppure mi dispiace che siamo in questa situazione, ok però bisogna fare. E' inutile che continuiamo ad andare avanti dicendo che ci dispiace la situazione che queste persone stanno vivendo, non andare a intervenire su chi ha delle colpe, ridare fiducia nelle banche perché se no così viene rovinato tutto il sistema bancario ma per dargliela qualcuno deve essere punito. Altrimenti non gliela rideremo mai perché qua c'è stato un errore del governo, c'è stato il bailout attivato su tutte queste banche quando venivano salvate le banche degli altri stati. Torniamo in piazza da Marino.